Manuela Villa prima di tale quale show ospite stasera da Bonolis Paolo Bonolis, Manuela Villa sarà stasera sua ospite prima di tale quale show. Stasera andrà in onda la quinta puntata in replica della settima edizione di Ciao da Arrivn condotta da Paolo Bonolis. E tra gli ospiti ci sarà anche la cantante Manuela Villa. Quest'ultima, nella passata stagione tv, ospite da Barbara D'Urso a Domenica Live, si è scontrata spesso e volentieri con il farmacista Alberico Lemme, reo di consigliare alle persone una dieta un po' fuori dai canoni. Finita qua? Nemmeno per sogno perché nelle ultime settimane il suo nome è stato accostato alla prossima edizione di tale quale show. Difatti, secondo diverse indiscrezioni, Carlo Conti le avrebbe proposto la partecipazione alla prossima edizione del suo programma. E con lei ci dovrebbero essere anche Marco Carta, Federico Angelucci, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip Alessia Macari, la cantante Annalisa Minetti, Piero Mazzocchetti, Benedetta Mazza, Valeria Altobelli e Eddie Angelillo. Riuscirà a incantare gli spettatori di Rai Uno e ad aggiudicarsi l'ambito premio come ha fatto Annie Orson o Alisola dei famosi condotta da Simona Ventura? Manuela Villa ospite stasera da Paolo Bonollis prima del debutto a tale quale show. Intanto i suoi fan, in attesa di vedere le sue emozionanti esibizioni a tale quale show, potranno comunque vederla stasera ospite da Paolo Bonollis a Ciao Darwin. Difatti, Manuela Villa stasera sarà impegnata a rappresentare la squadra denominata Noi Non Siamo, che si sfiderà con il team capitano non niente popo di meno che dalla Marchese d'Asburgo. Riuscirà a battere la guerritissima nobile? Chissà, sicuramente le due non si sottrarranno a scambiarsi battute velenose, divertendo i tanti telespettatori a casa. Comunque sì e il divertimento sarà assicurato. Insomma, appuntamento alle 21.20 subito dopo paperissima sprint con la quinta puntata in replica di Ciao Darwin 7 su Canale 5. Buona visione e buon divertimento. Grazie a tutti.